benvenuti a tutti ragazzi qui è gif g e adesso andiamo subito ad azzardo vedete che sto già caricando perché voglio portare avanti un po' un'impresa esotica che non so se riusciamo a farla adesso non so se è conclusa col fucile a pompa comunque devo partecipare ad azzardo crogiolo per portarla avanti e mi mancano dei colpi precisi via però crogiolo non ne ho assolutamente voglia e allora quindi passiamo direttamente ad azzardo e proviamo a portarla avanti poi vediamo se fare qualcos'altro adesso vediamo abbiamo appena iniziato c'è un po' di tutto ok vediamo un attimo solo se sta funzionando anche tutto ma sembrerebbe di sì tanto per ricordare per me per chi mi segue nevica il primo giorno di neve dell'anno del 2020 hanno da dimenticare cosa che sarà impossibile fare invece ok ragazzi vai adesso poche storie siamo in azzardo bisogna iniziare scaldiamoci le mani ok ballerini balliamo cosa c'è sul menù vex in arrivo ok spremiamo qualche vex meglio famosi e coraggiosi i vex hanno quel punto debole nel centro scoperto che è commestibile vedi prepararsi al trasmat ci sono gli uccellini che volano allora ma subito come mai ci siamo sparsi così è strana sta cosa ok così si fa subito un bel salto nel vuoto ok vai 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 che tanto è il fucile che devo usare è quello giusto sono sopra c'è nessuno no non ha perso qualcuno dove siete ok ragazzi poi voi che guardate sempre sto video è di mattina quindi se sentite voci strane o cose commenti assurdi niente eh pulizioni no no questa schifezza uh quello fa male via via ok facciamo così andiamo a depositare qualcosa bene bene dove sono feriti no cavolo mi piace mi piace sto fucile l'ho sostituito con l'altro che avevo di automatico e mi sono trovato veramente bene eh siamo anche invasi dobbiamo invadere noi questo è già che provano i corrotti crociano crociano la tempurist perdi particelle fratello occupati degli assedianti 10 secondi poi ci faccio rientrare fuori uno l'invasore fuori dal capo perda ho sbagliato eh voilà ho perso dovevo depositare è vero sono andato alla fuga ho detto ci hanno mangiato tutte le particelle dai non le raccolgo più andiamo le mie particelle avete visto dove l'ho tirata quella palla di ghiaccio dai di stasi vero niente ghiaccio hai la testa dura vieni qua fatto invadete voi che è meglio c'è nessuno dove l'abbiamo messo dai loro hanno già la sedia il co dai no eh vabbè ragazzi oh non riesco da quando è passato oltre la luce cioè da quando è passato quando è arrivato oltre la luce non riesco più non ho vinto ancora una partita in alzardo non che ne abbia fatte tante però il tuo alleato sta invadendo il tampone mini nooo presi ero già a 15 vedi ragazzi sto dormendo in piedi in arrivo in zona rimessa il bersaglio di alto profilo è scappato ti rifarai col prof le particelle hanno fatto apparire un assediante grande tra i nemici perfetto sono già resi tutti eh vabbè è andata così mangiamoci un po' di boccorno ok ragazzi un secondo che e torno subito tanto deve caricare l'altra voglio portare avanti ancora un po' l'impresa poi è andata malissimo questa partita dai torno subito è andata malissimo è andata malissimo ok ballerini balliamo cosa c'è? ok balliamo 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 cabali in campo come butta la legione russa e i lealisti sono gli unici cabal rimasti nel sistema braccali all'estinzione ok guai uccidi i nemici prendi le particelle e depositale nella banca ah stesso posto di prima ma i cabal si sbagliato perché era sparito per un attimo prendiamo tutto arrivo nella gola dai nella gola forza velocissimi andiamo un po' da cucina ok guarda che mi uccidero adesso no vai vai velocissimi velocissimi 13 14 ce ne erano un 15 anche no ce ne abbiamo solo 3 che sfiga sono pieno io di particelle e laggiù no mi son fatto seccare 14 particelle perse così dovevo fare più attenzione ok ok dai ce la faremo no 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 bene no merda ma vitero ce l'avevo di fronte io guardavo in alto però peccato continuo a perdere particelle 0 ok giù malefico ok adesso dove sono no di nuovo l'invasore aspettiamoci da qua eccolo oh ok giù le lezioni che servono rimettiamogliele subito no non siamo proprio indietro manetta e vabbè ragazzi è così è finita la fortuna su azzardo ma che maledetto che non mi molla oh via le deposito almeno 5 ah 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 quasi non lo vedevo quello mi stavo passando di fianco tu dai 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 velocizio oh 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 non ce la faremo mai voilà anche questa è andata malissimo peggio direi direi pure peggio all'inizio dai la prima partita non facevo caso neanche quante ne avevo raccolte di particelle ulti ci guarda che tristezza boh chiudiamo in bruttezza e ci spostiamo come riscaldamento è stato proprio svilente allora un secondo che guardo se effettivamente ho fatto qualcosa nella nell'impresa che tra l'altro boh forse qualche punto non lo so vabbè per adesso teniamo ok andiamo a vedere cosa abbiamo recuperato ok saliamo di l'infamia 39 38 37 teniamo questa così cambiamo un po' spada anche perché questa qui non la sopportavo più poi 38 no in la prossima no vabbè chi se ne frega via anche lui ok poi andiamo su Europa almeno 39 ho letto bene sì mettiamoglielo anche se un solo punto tutto fa brodo gli stivali tengo quelli quindi 37 ah qui ho ottenuto della roba che non serviva ok questo qua questo qua carabina del settimo serafino mi sono trovato proprio bene in più l'ho beccato con dei perk che mi andavano veramente fanno comodo ci sta mi piace ho sostituito con quello che stavo usando prima poi adesso basta andiamo a vedere un attimo dove è che volevo andare a parte vabbè questo che forse dobbiamo fare ancora qualche partita sì ancora dai facciamola boh così ci togliamo azzardo almeno l'abbiamo fatto stile lavoro no ma mi diverte solo che veramente adesso così aveva fatto due partite proprio orrende che brutta cosa riproviamoci dai ricaricando magari abbiamo ricarichiamo anche un po' di fortuna allora vediamo se posso attivare qualcosa intanto no no altro giorno sono andato a provare bene questo fucile qua sono andato nel cosmodromo dove ci sono delle zone che va veramente bene a fare il cecchino ragazzi questo fucile qua è divertentissimo da usare non l'avevo ancora vinto è stato qualcosa di bellissimo se fai tre colpi precisi il terzo colpo scatena tipo una piccola zona dove ci sono i fulmini i tuoni è una cosa bello fa il fumo nero proprio come un piccolo temporale ecco dai vedi la cosa è concentrato di fulmini tra l'altro ma è veramente divertente poi ogni colpo preciso chiaramente scatena addosso sempre un colpo d'arco va veramente bello esteticamente no ma da usare si va bene proprio a lunga distanza comunque da vicino non c'entri niente ok dai vediamo allora abbiamo fatto ca si vex cabal ok di nuovo vex devo sfruttare di più il fucile a pompa un idravex poi puoi dormirci dentro la notte trasmat pronto ok vai col trasmat uccidi i nemici prendi le particelle e depositale nella banca sempre qui ok 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 giù dov'è l'altro sopra mettiamogli uno medio vai giù bene esplosione malefica ok è tutto malefico ultimamente allora eccoli là andiamo no 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 che brutta cosa non ho visto solo uno pensavo che erano due male 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 forza dovevo usare il lanciapatateli dai che ce lo facciamo forza a vincere una volta no ci stanno ciucciando vera no ok è arrivato merda cavolo mi vede mi ha detto subito dovevo imboscarmi eh però non ho perso particello almeno forza nooo una particella ancora ok vai 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 di fucile dove sono andiamo a recuperare ancora qualcuno cerchiamo di farlo una volta pieno dove sei finito mandalo dietro cerchiamo di bloccarli lì un attimo eccolo lì guarda che sfiga no dove sono andato a infilarmi uh meno male vai 15 forza forza e vai le particelle hanno fatto apparire un assediante grande tra i nemici perfetto no dal contrario perché il tuo alleato sta invadendo ah stavo per farlo io va bene nemici in arrivo in zona rimessa dai velocissimi no bella ce l'abbiamo fatta almeno evocarlo ah dov'è no sono senza punizioni guarda che con questa pallina di ghiaccio oggi non prendo nessuno ho detto dov'è dov'è deve stare sempre un po' trasparente lui non lo so non lo so non lo so non lo so l'ho sentito arrivare il siluro dov'è facciamoci ammazzare di nuovo guardalo lì che non l'ha non l'ha no 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 ma che cos'era c'era la bolla ancora ma porco giuda non mi sono accorto il tuo alleato sta invadendo dove sei vai cos'è no ah eccoli quelli in alto che fanno sta cosa oh l'ho preso oh ce l'abbiamo fatta si bellissima ci stava una vittoria per iniziare dai ok le sfide di azzardo le abbiamo fatte però mamma mia devo allenarmi di più eh nel nei pvp azzardo azzardo è un po' è un po' però li gioco poco li gioco poco ma adesso perché c'era tutta la storia nuova tutta la nuova campagna le nuove missioni mi interessavano di più le cose nuove ok vediamo che ci ha dato e poi ci spostiamo allora 39 40 subito eh non lo so vabbè teniamola per adesso 40 44 ma questo è vero non l'avevo guardata ma da supporto e vabbè mettiamolo in mano così saliamo a 50 che non fa male 48 41 stavolta però no lo consumo tanto questo fucile qua incomincia a piacermi sempre di più benissimo vediamo il resto 39 eh vabbè eh quanti materiali sto consumando ok sappiamo ci manca un po' no ci manca ancora la metà altri non ne ho più no ho già 12 li ho già messi tutti ok niente ragazzi andiamo su Europa ci buttiamo a fare qualcosa prima arriviamoci e poi decidiamo dei pinguini li ho presi eh altre cose le ho fatte anche la caccia senza non quella maestro anche perché farla da solo maestro adesso è ancora troppo basso il potere eh non mi ricordo cosa volevo fare niente no ah si vedete qua 13 2 2 punti mamma mia andrà per le lunghe ma va bene dai automatico vuoto fusione lineare non ce l'ho dietro se non lo vinco chissene mamma mia è brutto già non mi piace quella fusione ma quello lineare ancora di più solo uno forse ce n'era un'esotica che mi piaceva si vinceva su Marte forse non mi ricordo più allora va bene qui abbiamo preso tutto uno è appena morto sotto i nostri occhi non mi ricordo più aspetta un po' potremmo andare vedo anche le imprese giusto per orientarmi un po' con un senso questo è degli assalti assalti anche questo sarebbe da fare possiamo andare portare avanti anche questo vediamo cos'è ah vabbè solo l'arma che poi forse ho già vinto sono sempre assalti assalti questa l'ho posata sono quelle armi esotiche che riescono ad annoiarmi prima ancora di riuscire a elaborarla e niente dai nella zona ecclesiata l'ho chiusa allo stesso male ah ho cambiato di nuovo a storia vedete questa volta non è esotico però mi è sempre piaciuto questo me l'ho porto dietro già da un po' uh la gabbia andiamo a vedere che succede oh niente oggi non riesco a colpire nessuno con ok laggiù qualcuno sta facendo i vex vediamo un attimo quanto dobbiamo stare qui con l'automatico possiamo dare anche una mano allora aspetta un attimo però prima fammi vedere cosa mi ha dato 39 non ce ne frega niente ci sta già dando roba più alta quindi smonta questo fucile qua mi piace mi piace ha una certa velocità tanto più da vicino mi piace mi piace questa non l'ho ancora provata neanche vista fammi vedere un attimo si no l'avevo già vinta in passato carina carina caruccia poi la provo allora questo cos'ha di particolare bene però una gittata che è ridicola a vedere ma cosa aumenta stabilità ancora ma la consumeremo mi sa di sì vabbè però adesso otteniamo questo voglio vedere anche questo com'è ah sì l'avevo già provato ok ok adesso ci provo di nuovo e poi con l'attacco a pallina vediamo se c'entro qualcuno non è giornata per quell'attacco meno male che non l'ho lanciata perché l'avrei sbrecata di nuovo l'ho preso no abbiamo le munizioni ok avanti con gli altri mechs c'è nessuno ah è una storia non capivo cos'era e se ho rilevato dall'insalata sii ce l'ho fatta colpire qualcuno bisogna accontentarsi delle piccole cose ragazzi ah piovo recuperiamo materiali ok maledetto servitore che continua ad allontanarmi ad allontanarmi morto? morto? si benissimo ragazzi ho sparato un altro allora vediamo un po' cosa c'è da fare ah no aspetta volevo mettermela l'impresa così capisco anche quando l'ho fatta eccola qua teniamola lì boh devo guardare intorno mentre mangio due popcorn ok adesso vedo la neve qua vedo la neve fuori dalla finestra e sono su Europa non riesco più dal rifugio ok là sotto c'è qualcuno ciao no ha un bel tiro lungo un bel danno mi piace mi piace questo questo automatico qua no un bel centro si è spostato non ci riesco ok ce l'ho fatta boh mi accontento bene ragazzi allora adesso andiamo a vedere qua aspetta la zona cosa abbiamo qui qualche zona da vedere abbiamo perdizione avremmo questo possiamo quasi farlo ormai anche questo potremmo provare a fare però devo mettermi alcune armi cioè devo potenziarne altre e allora lì dovremmo vincere sempre qualche esotica facendolo da solo magari non si presenta neanche così facile cioè ho provato già una volta ma avevo il potere troppo basso quindi non sono riuscito ci ho messo troppo a battere anche solo i primi ho detto boh esco ci riproverò più avanti e poi non ho più provato allora andiamo mi stai contando si bravissimo facciamo anche questo più per il i punti esperienza quindi bello preciso in più l'ho reso un po' più stabile grazie ai perk che avevo e poi gli ho aggiunto qualche cos'altro che avevo io vinto già che forse no no prende meglio la mira non il rinculo e mi piace mi piace tiro lungo stabile ed è abbastanza dannoso si può fare meglio però per adesso a me garbano parecchio gli automatici in questo gioco quindi mi trovo bene allora ah già ci siamo quasi allora qualche qualcuno un po' più forte no ah è vero ecco cosa volevo fare no torniamo un attimo da Varix voglio prendere il rivelatore lì qualcosa del genere adesso non fatemi dire i nomi a casaccio che tanto non me le ricordo e così voglio vedere cosa succede perché non l'ho ancora fatto anche quello stavo aspettando di riuscire a farlo con voi quando il tempo c'è un secondo che faccio sempre casino con le cuffie ok prendiamo il il coso lo chiameremo il coso per adesso adesso gli daremo un nome vediamo si ok eccolo qua transponder oh bene dai ottieni nella zona nella zona ok e si torna lì questa cosa me la ricordavo però ho voluto solo rileggerlo forza andiamo a vedere credo che sia lì dove da dove sono mi sono teletrasportato no non l'ho chiusa vabbè a questo punto mentre siamo qui facciamo questo poi ah no un secondo sta cosa del transponder dove me l'hai messa però mi sa che devo solo niente devo usarla quando sarà il momento boh guarda come si dà la fuga allora voglio solo il tesoro io ok ho sentito rumore edi tu no eri tu ok credo che sia laggiù il nostro nemico si immune allora adesso gli disattiviamo l'app immuni e poi vediamo cosa fa probabilmente ci fa raccogliere solo qualcosa non ho ancora idea di cosa insalata e vai perché non mi molla ma cominciai a dare fastidio così non sai ancora immune Noi Ok, acquista potenziamento Settore break per tre Allora, vediamo un attimo Che devo fare? Scanner Allora, fammi capire se mi ha aggiunto qualcosa sulla mappa No Andiamo un attimo Vabbè, questo dobbiamo andare da lui Lasciamo stare Dovrò andare qua? Azione, tarnitano Non riesco a capire Cavolo doveva andare Posso Sembra che l'oscurità si stia muovendo senza i ramis La piramide ha depositato qualcosa Recuperalo prima che lo facciano i caduti Scanner Settore break Non so, sarà qua Non so che dire Vediamo questo affare Ah, forse venendolo così Lasciatemi stare Non sono sicuro di quello che devo fare Andiamoci a vedere qua Proviamoci Vediamo se ci indica Scusa Non riesco a sapere Ah, eccolo lì, forse Possibile? No Oh Oh No, finito i colpi Non sono accorto Tardi Vediamo Ah no, è sempre la stessa cosa Trasponder, si chiede il trasponder Però non ho capito Ah, da sopra Ma scusa, allora io c'ho sta roba in te Boh, proviamo a entrare A questo punto Di logica Se mi giro mi fa vedere qualcosa Mi indica la strada No, no Sta cercando qualcosa Boh E' la prima volta che faccio stare Io non vado mai da guida La guida solo quando mi sono stufato di cercare di capire Boh, vediamo che succede C'è nessuno Dovrebbe di sì Sì Ok Ok Ce l'ho sempre in testa Sta a fare Non lo so Proviamo di qua Ma qua siamo Qua siamo Esoscienza Bray Sì Sì Chissà che cosa devo fare Se è un po' quazzetto Piazza Ah, mi sa perché ho fatto qualche Guardalo Le banci Aspetta Ah, piazza Boh Era già piazzato Ragazzi non ho idea Io proseguo Però non ho proprio idea Di dove devo andare Quale sarà il lato giusto Fammi riguardare sulla mappa Se ho qualche piccolo indizio Ma no Non credo Allora Fatti un attimo capire una cosa No, non mi dice niente Proviamo prima di qua Cerchiamo di capire cosa vuole farci fare Anche loro ci da A risolvere poi Qualcosa Se li prendo eh però Sarà Vedi non me l'ha mai illuminato Sarà quello? Vediamo Sì Allora bisogna proseguire Più avanti Mi sembra che ce n'è altri Che è successo? Ah è sparito Vai 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 Abbiamo capito cosa devo fare Devo andare E occuparmi dei Robottini volanti Dove siete? Sento rumori Sto ghiaccio Stasi Si potrà dire anche di quello Allora Eccoli qua Eliminiamo prima Quelli che infastidiscono Ok Vai da munizioni Non ho un'arma che si carica da sola Che fastidio Vabbè No Dove sei Ok Allora Lasciatemi in pace Che voglio occuparmi dei Robottini Che non ho capito Però dov'è il computer Eh se ti centrasti però Sarebbe più semplice Ok Va bene Brutticosi volanti Perché Perché ho questa mira Stamattina Dovevo prendervi Qualche altra arma Oh Una è fatta Va bene ragazzi Raccogliamo le munizioni Perché qua ci andranno tutte Dove sei? Due Tre E quattro Dai E vai Procediamo Ok Ce ne manca solo più uno E procediamo di qua Meno male che sono Ho iniziato subito Voglio capire cosa succede Probabilmente un trionfo Qualcosa di segreto Beh segreto Più o meno Robottini volanti Dove siete? Di qua credo Dai Proviamo Eccoli qua Non ti nascondere Così però Due No Ok Vediamo Wow Fatto Progresso Vabbè Ci ha dato Potenziamento Tieni Bello Vediamo un attimo Così sono riuscito a fare Anche sta cosa qua Che era Un'altra cosa nuova E l'avete visto anche voi Però Un secondo Aspetta Fammi allontanare Così non ci danno fastidio Mentre che Ah potevo cancellare un po' di porcherie Però eh Ma tipo questa Però Mesto via Teste esplosive No eh Solo più questo Vabbè Trento 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 No via No Di fatti Inutile che lo tengo Quella potrei potenziarla Prima o poi Che è veramente comoda Aspetta un po' Con tanto di ribellula Però 44 Carino Così era 42 No però Adesso teniamo così Vabbolo solo vedere Ah sì sì L'avevo già vinta Però mamma mia Brutto brutto Forte da guardare Però ribellula Fa comodo Bene Vabbè Adesso teniamolo un attimo lì Poi vedremo se consumarlo o no 39 Mi manca il torace Dell'armatura Per fare anche una missione Prima o poi la troverò 39 38 38 Ma è questo Quel crostocreno 32 Niente Qui bisogna eliminare qualcosa Però Tutto può farmi comodo E' proprio questa Eh vabbè Dai Meglio così C'è fatto qualcosa Che poteva essere utile Ma sì Mettiamoci in mano Questo cos'è 37 Non mi piace questa Eh Non mi piace Vediamo se riusciamo Accelerare un po' Magari la ricarica Ma Aspetta No Stabilità Anche Ne abbassa pure Quello Mettiamogli un Tocchetto Colpi Mettiamogli questo Città Città di ricarica Sì Ma di quanto Me la abbassi Tanto Non lo so Vabbè Proviamo prima Così Poi vedo se Non mi stanca Avere pochi colpi Anche questo Aumenta la stabilità E riduce un po' La gittata Mettiamoglielo Ok Questo balla Proprio in mano E Niente Andiamo Ah no A questo punto Lo proviamo pure Vedo che c'è qualcuno Volete essere Le mie cavie Guarda che Non lo centravo Neanche a pagare Ok Va bene Ne ho viste Di più Più veloci Ah niente No ma usciamo così Allora abbiamo fatto Scoperto anche Come si fa Quell'affare Quell'affare Ormai è diventato No Torniamo solo indietro Allora Se potesse mettere La storia Sarebbe una meraviglia Quindi probabilmente Per ogni zona Poi eclissata Ci saranno Dei Dei robottini volanti Da distruggere Dei computer Da seguire Farà comodo Prendiamo munizioni Un po' di footing Allora ragazzi Ok E il computer Non torna Comunque No Niente Ce la faremo ad arrivare Per tempo Sì Credo di sì Sbaglio direzione Allora Allora Poi fatto una volta Questo Voglio provare Solo ancora Lì L'allenamento Contro i Così Vedere Farlo in cooperativa Se Se c'è qualcuno Ok Dov'è Lo sento uno Lo sento uno Che Ah Questi Niente No Allora Vabbè Andiamo a vedere Solo L'evento Ah Saranno i vex Ok Guarda di qua Niente Miro malissimo Stamattina Ok Qualche secondo E facciamo questo C'è la grotta Dove c'era Il pinguino Guarda niente Ok Sono riuscito A fargli una carezza Da lontano E' andato giù Ok Arriva La neve Avevo sconsigliato A Eramis Di estrarre lumen A che ci serve Quella valuta Se le mie parole Sono state ignorate Fai valere La tua volontà Metti il verso Che fa Chi fa morire Chiaramente E' una negazione Però sembra Che sta parlando Col gatto Mentre che Alla radio Con noi Cioè sta chiamando Anche il gatto Ah no Sono i I caduti Ah vabbè Ma chi se ne Facciamo così Proviamo ad avviare Quello Che voglio vedere Com'è Cioè com'è Com'è in compagnia Più che altro Facciamo questo Anche gli eventi Ci sono Cioè anche questo C'è sempre Però non l'ho ancora Provato In coppia Vediamo se qualcuno Si unisce Altrimenti Lasciamo anche stare Il volo In silenzio Come nello spazio Reale Ah no Arriva anche la musica E il suono Allora Mi cellano Ho passato Migliaia di ore E messo al lavoro Infinite persone Su questo algoritmo Bellico Si E tu Da solo Pensi di riuscire A impedire Ai Vex Di scalare Queste due piattaforme Il pensionamento Mi ha ammorbidito Perciò Ti darò un consiglio Il cubo in alto È una sorta Di centro nevralgico Per questi Vex Colpiscilo Per guadagnare tempo Era quello Scusa Ah Là ci sono Dei Linee Della Guardia Laggiù Lo stesso Una bella Rinfrescata Facciamo di capire Cosa devo fare Non sono più prove Di intelligenza Avanziamo un po' E vediamo che succede Prima Qualche ammolizione Ma ci sono Gli altri Robottini Che ci danno Una mano Fa comodo Gli Exo Non chiamiamoli Robottini Cosa è quello Gli altri Per l'amore del cielo Per l'amore del cielo Non fai attenzione Cosa succede Cosa succede? Un suono Che mi gira intorno A questo punto Le probabilità Di riacquisire Il controllo Sono scarse Ma perché dove Sarebbe l'unica opzione Ok Ho capito Più o meno Quello che devo fare Ma no Cerca di non deludermi Questa volta Intesi Ah Però da solo Proprio è una bella Ho capito Ho capito Vabbè Bisogna riuscire A difendere La zona Bisogna farlo Solo in fretta Ok Però no Da solo no Non ho nessuna Intenzione Di impignarmi Fino a questo punto Questa mattina Ok Ah Di nuovo in orbita E niente ragazzi Qua ci salutiamo Allora Facciamo così È stato un piacere Come al solito Che state con me E quindi Vi ringrazio E alla prossima Ciao a tutti ragazzi Sotto la prima neve